Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come collegare un controller su Counter Strike 2 ovviamente non è difficile collegarlo, basta che il controller sia connesso al PC e modifichiamo anche il layout sul gioco. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come collegare un controller su Counter Strike 2 ovviamente non è difficile collegare un controller, basta che sia connesso al PC ovviamente io ho il controller con la chiavetta, controller wireless, quindi collego così il controller, si connette automaticamente e se schiacciate questo tasto centrale, per chi ha un controller con il tasto centrale, proprio questo tasto qua, si apre così la modalità Big Picture e per avviare questa modalità puoi anche avviarla su Visualizza, modalità Big Picture. Ok, una volta fatto, clicchiamo sul gioco, andiamo su controller, il layout attuale è Valve Layout Ufficiale per Counter Strike, se cliccate sopra dice Consigliate Layout Ufficiale per Counter Strike 2, eccolo qua. quindi torniamo indietro, poi c'è la sensibilità al joystick destro che vi consiglio di aumentarla, facciamo fatto, torniamo indietro. Vado a mettere, ovviamente è troppo veloce, quindi usiamo il mouse, pratica, vertigo e andiamo su V. Ed eccolo qua, il controller funziona su Counter Strike, salto, con l'A, B non so cosa faccio, con questi cambio arma, con questo sparo, con questo ricarico, con l'ex ricarico, vediamo se riesco a uccidere qualche bot con il controller. la C5 come si prende, eccolo. Così è perfetto per giocare. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come collegare un controller su Counter Strike 2, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! 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 Ciao!